È partita l'organizzazione del Corpus Domini 2024 che quest'anno cade il 2 giugno con la sfilata dei misteri del Dizzinno. È già online sul sito del Comune Il Bando per l'assegnazione in concessione dei posteggi sulle aree pubbliche per la fiera di Corpus Domini, la data entro cui farà arrivare la richiesta, quella del 2 aprile 2024. Verrà organizzata anche quest'anno la manifestazione La Città dei Misteri fra Borghi e Tradizioni, giunta alla settima edizione. La sindaco Paola Felice ha informato che sono stati invitati tutti i sindaci molisani ad aderire all'iniziativa che prevede per ciascun comune la disponibilità di uno spazio espositivo in cui promuovere bellezze storiche, artistiche, naturalistiche dei borghi, dei prodotti dell'artigianato e le antiche tradizioni. L'obiettivo, dice la Felice, è quello di creare una rete fra le comunità per offrire ai visitatori, in una vetrina suggestiva e di grande richiamo, un percorso espositivo ed esperienziale alla scoperta di tutti i paesi della regione, allo scopo di incrementare l'attrattività del territorio. Anche per questa edizione il Festival dei Misteri ha ottenuto il patrocinio del Ministero del Turismo, a conferma di come questa manifestazione ha superato i confini di un evento sentito solo dai Campobassani, ma è diventato un evento di respiro nazionale.